Le emozioni sono stati mentali, si differenziano dai sentimenti e dagli stati d'animo. Basterebbe uno sguardo per cambiarti la giornata. O un bacio verso il proprio piccolo per farlo sentire sempre protetto. Oppure, perché no, basterebbe un semplice piccolo gesto per tirarti sul timorale. Altrimenti, sì, un messaggio, senza tanti giri di parole. Un amore distante, che ti fa stare male. Qualcosa che ha dell'incredibile, come quella di una nascita di un bambino. Non smettere mai di sognare, e soprattutto le emozioni, vivi le.